Buonasera a tutti, bentrovati, anche quest'anno vi trovo numerosi, le società si sono ormai legate a noi in questo percorso e quindi senza troppi preamboli diamo il via al promo della manifestazione e poi specificheremo nei dettagli tutte le varie iniziative collaterali che abbiamo approntato per voi. La cosa prioritaria, l'intento della manifestazione è l'aggregazione e il divertimento dei ragazzi, dei bambini e quindi nell'arco degli anni siamo riusciti ad eliminare i piccoli dissapori e le piccole frizioni che ci sono tra le società, questo è il grande vanto di questa manifestazione, in più oltre a delle iniziative di carattere ludico come adesso il Festival del Circo abbiamo l'iniziativa principale che è legata ed ecco perché questa è la location che ci ospita con la McDonald che ha sostegno delle case di Roland che è l'organizzazione Onlus a supporto delle famiglie che stanno vicino a bambini malati terminali e comunque che hanno grosse difficoltà e vanno seguiti. Io lascio quindi la parola a Federica Bevilacqua che ci illustra brevemente l'essenza di questo progetto. Allora, intanto buonasera a tutti, siamo nuovamente presenti anche quest'anno al torneo Mediolanum Cup e illustro brevemente l'attività della nostra fondazione che si occupa di costruire case per ospitare le famiglie di quei bambini che sono ricoverati in ospedale e che hanno bisogno di un supporto non soltanto materiale ma soprattutto morale. Interviene anche negli ospedali pediatrici attraverso, passa delle attrezzature e oltre ciò organizzano anche delle attività ricreative ed educative, ovviamente per agevolare le famiglie in questi momenti di difficoltà. Quindi è un'attività importante. L'anno scorso abbiamo ricevuto sostegno dalle famiglie che si sono dimostrate molto disponibili, hanno mostrato molto interesse, di questo siamo molto contenti e siamo sicuri che anche quest'anno avremo la stessa disponibilità nelle famiglie attraverso un momento così di svago, di divertimento di questi bimbi e ci fa piacere che possa passare un messaggio così importante qual è il ruolo e l'attività della nostra fondazione. Siamo qui nella sede di Via Fabio Filzi di Latina, sede della filiale del Mediolanum. Siamo con la presenza di Alessandro Negri, insomma una persona che continua a rinnovare la fiducia a questo torneo Family Bank naturalmente del Mediolanum. Il torneo sta per iniziare. Due giorni fa c'è stato un prologo clamoroso con tantissime persone che sono venute a Piazza del Popolo per assistere alla sfilata. Allora io ti chiedo che cos'è che accomuna il Mediolanum con questo tipo di torneo giovanile? Beh, come ho già detto in diverse occasioni, Banca Mediolanum è interessata a questo tipo di manifestazioni perché è ovvio che trattandosi appunto di manifestazioni che coinvolgono i bambini, coinvolgono anche le famiglie. Dato che la nostra figura professionale è appunto denominata Family Banker, è ovvio che il connubio sia ideale e quindi quando siamo partiti con l'idea della sponsorizzazione l'abbiamo fatto proprio con l'obiettivo di far conoscere Banca Mediolanum qui a Latina alle famiglie che appunto fanno parte della provincia. E con il tempo poi è diventato, insomma, quello che è diventato forse anche di più di quello che ci si aspettava, meglio così insomma. Si è iniziato un po' per gioco, un po' per caso. Adesso siamo al quinto anno, i numeri sono davvero, oserei dire, rabbrividenti, insomma, 26 società iscritte, 95 squadre, torneo che dura 8 mesi, quindi tutte le domeniche all'Acura Fitness ci sarà uno spettacolo incredibile, insomma, di passione da parte anche dei genitori, dei ragazzi e voi naturalmente che sposerete questo tipo di progetto, lo state continuando a sposare, ci sono delle prospettive anche importanti per il futuro. Sì, diciamo che è cominciata appunto come una sponsorizzazione, tra virgolette, normale, come tante altre iniziative che seguiamo. Poi effettivamente i numeri sono stati molto più alti rispetto a quello che ci attendevamo e quindi abbiamo rinnovato la sponsorizzazione per gli anni a venire. Diciamo che rinunciarci, visto il risultato ottenuto fino adesso, sarebbe poco opportuno e quindi sicuramente è un vantaggio per noi che la manifestazione sia diventata così importante. Credo sia un vantaggio anche per chi organizza, quindi per la manifestazione stessa, avere un brand così importante alle spalle e quindi fino a che siamo tutti quanti contenti, va benissimo così. Ultima domanda, ti chiedo quali sono i valori che accomunano il torneo Mediolanum Baby Cup con appunto la manifestazione sportiva, i valori che sono in sinergia? Sì, a noi piace molto il discorso legato anche alla sportività e c'è sempre stato questo punto fermo dell'organizzazione che ha sempre fatto in modo che non ci fosse una ingerenza particolare dei genitori durante lo svolgimento del torneo e questo naturalmente è un ottimo esempio di sportività. E poi c'è anche il discorso, come dicevamo prima, del fatto che comunque il calcio specialmente a questi livelli è molto collegato alla famiglia perché naturalmente senza l'appoggio dei genitori i bambini non potrebbero comunque svolgere la loro attività, forse futura, ma comunque per il momento passione sul campo e come Banca Mediolanum noi siamo sempre molto attenti anche alle esigenze della famiglia quindi questo tipo di legame che si è creato con il torneo è proprio nato con questo tipo di presupposto e quindi sicuramente il fatto che il torneo prosegua in modo così esaltante a noi interessa molto. Enrico Michelacci, responsabile della provincia per quel che riguarda la Banca Mediolanum insomma possiamo dire che questo torneo, questa manifestazione che dura otto mesi voi l'avete già sposata da diversi anni, sta crescendo in maniera incredibile dal punto di vista numerico della passione io ti chiedo quali sono invece gli obiettivi e il target da parte della vostra banca? Diciamo che per legarsi alla manifestazione Mediolanum è sempre stata molto vicina a quella che è l'attività sportiva agonistica o non, questo ci dà la possibilità egoisticamente parlando di farci conoscere in maniera anche più importante che insomma sulla provincia latina stiamo diventando una realtà sicuramente di primo ordine il fatto di coinvolgere molti giovani giocatori ma fondamentalmente le famiglie all'interno di questo torneo ci dà certamente la possibilità, la notorietà ancor più inclementata rispetto a quello che è Banca Mediolanum nel suo contesto. Le politiche di marketing da parte della vostra banca sono sempre in primo piano sono sempre rivolte a sposare progetti che tutto sommato hanno come priorità la sportività questo è un torneo che si caratterizza proprio per la sportività e possiamo dire che insomma che la crescita di questo tipo di torneo sta facendo anche crescere l'immagine della banca? Sicuramente sì, diciamo che Banca Mediolanum nel suo contesto fa molte manifestazioni sportive e non noi al di fuori da quella che è la manifestazione sportiva che stiamo organizzando che continuiamo ad organizzare perché come precedentemente è stato detto è ormai degli anni che seguiamo direttamente spesso fa manifestazioni teatrali, cioè diciamo che la nostra pubblicità è quella di stare quanto più vicino possibile al popolo, alle persone comuni, a quello che è poi fondamentalmente il risparmiatore la nostra politica, noi siamo nati dicendo la banca ha costruito intorno a te e vogliamo continuare a portare avanti questo tipo di politica. L'ultima domanda che le faccio, questo è un torneo che è nato un po' per caso, possiamo dire cinque anni fa un po' come esperimento, partecipavano poche società soprattutto nel capologo pontino adesso si sta allargando nella parte soprattutto del sud pontino anche per quel che riguarda i Montilepini, quest'anno ci sono anche società di Anzio insomma si sta sicuramente allargando anche la cerchia è un risultato importante anche questo da parte vostra? Ma è un risultato molto importante anche perché solo nel territorio laziale noi siamo presenti con oltre 400 family banker quindi la realtà Lazio per Banca Migliorano è indiscutibilmente una realtà importante egoisticamente io vi parlo della realtà della provincia di Latina dove noi siamo presenti con circa 90 agenti, quindi 90 family banker questo la dice abbastanza lunga considerando che un family banker noi lo vogliamo paragonare a quello che è un classico direttore di banca quindi ha piena autonomia, questo vi fa capire cosa stiamo facendo in questo territorio Fabrizio Caleotti, family banker della Banca Mediolanum insomma possiamo dire che questa avventura sta per iniziare saranno 8 mesi intensi di questo tipo di torneo giovanile che sta crescendo sempre di più insomma questa sicuramente è una soddisfazione proprio per la banca che vede rafforzare la propria immagine e il proprio brand assolutamente sì, è la cosa bella che viene condivisa non solo a livello nazionale ma a livello locale per cui noi crediamo molto nei valori dello sport crediamo molto nei valori della banca crediamo molto nei ragazzi e quindi abbiamo ci è piaciuto molto insomma portare avanti questa iniziativa e condividerla con i nostri clienti e non solo Tanti bambini, tantissimi genitori che tutte le domeniche verranno all'Aquora Fitness per dar vita appunto a questo bellissimo torneo qual è la mission, qual è la strategia da parte della banca Mediolanum? La nostra strategia è quella ecco di farci riconoscere attraverso i valori cioè il nostro lavoro sicuramente è molto importante ma vuole essere appunto condiviso con dei valori veri che sono anche i valori che ci sono presenti nello sport e quale è la migliore occasione per trasmettere i trami dei bambini C'è stata una crescita costante negli ultimi anni da parte del torneo che ha visto rafforzare i propri numeri dal punto di vista della partecipazione e delle presenze e sicuramente questo non può far che piacere al main sponsor appunto Banca Mediolanum che ha probabilmente sposato il progetto giusto Assolutamente sì e siamo contenti che abbia veramente tanto tanto successo ed eccoci qui anche quest'anno per condividere ancora questa iniziativa A che Fabrizio Vecchini è un family banker della Banca Mediolanum a lui chiediamo cosa ha spinto la banca a sposare questo progetto e per quale motivo e se avete creduto subito nella buona riuscita che poi effettivamente c'è stata Noi come Banca Mediolanum sono già parecchi anni che sponsorizziamo questo tipo di manifestazione la nostra mission è quella di farci conoscere meglio sul territorio e quale migliore occasione di questi avvenimenti sportivi che coinvolgono sia ragazzi ma anche tutte quante le famiglie per poter far conoscere la nostra azienda e il nostro marchio La cosa positiva di questa manifestazione correggimi se sbaglio è il fatto che dura nel tempo nel senso che sono otto mesi tutte le domeniche ci sarà la possibilità di poter vedere il marchio della Banca Mediolanum tutte le domeniche alla Cora Fitness e questo non può far altro che rafforzare il brand della vostra banca Esatto, è come se fosse un campionato di calcio di serie A o di serie B visto che Latina sta in questo campionato per noi è un motivo anche d'orgoglio poter partecipare come sponsor a questa manifestazione proprio perché sul territorio vogliamo essere i protagonisti Parliamo di numeri numeri che sono stati davvero clamorosi nella presentazione che c'è stata sabato scorso a Piazza del Popolo ci saranno stati 3-400 bambini almeno un migliaio di persone un entusiasmo alle stelle e questo sicuramente è il modo giusto per poter iniziare questo torneo Sì, sembrava quasi di aver vinto una manifestazione una Coppa Europea Latina casomai merita questo palcoscenico sì, un coinvolgimento molto importante delle persone delle famiglie e questo non può che farci piacere Avete intenzione, l'ultima domanda che le faccio è di poter proporre magari questo tipo di iniziative di questo tipo di partnership anche per tornei che sono fuori dal capoluogo pontino ad esempio magari nella zona del sud pontino oppure nella Ciociaria o in altre zone comunque del Lazio Sì, in ambito territoriale siamo presenti anche in queste zone come Banca Mediolan non ultimo anche nella parte meridionale del territorio pontino in cui stiamo cercando di intensificare anche la nostra presenza Andiamo qui a farci un saluto un'iniziativa particolare che è Alessandro Vida che molti di voi conoscete della Mister Calcio che è un software per gestione delle società è una partner del nostro evento e adesso vi dirà lui qualche parola a riguardo Buonasera a tutti tanti ci conosciamo già allora da quest'anno abbiamo la fortuna di collaborare col torneo Mediolanum che è riservato alle categorie della scuola calcio e l'iniziativa brevemente è questa il nostro software si occupa di gestione di società calcistiche e gestione per allenatori quindi a tutti gli allenatori e a tutte le società partecipanti al primo giorno che inizierete a giocare verrà fornito un modulo che voi dovrete compilare e poi vi sarà sbloccato il software in prova per 15-20 giorni sono 15 giorni per gli allenatori e 20 giorni per le società dopodiché là ci saranno i nostri contatti voi avrete il modo e il tempo di provarlo e così vedrete insomma se vi tornerà utile o no abbiamo la fortuna, ripeto quest'anno di riuscire attraverso il torneo entrare a contatto a tantissimi allenatori e soprattutto società sportive questo è il nostro progetto intanto salutiamo il direttore generale dell'Accademia che ci fa il saluto come squadra che fa gli onori di casa insieme alla Gila Soccer di Peppe Moschitta buonasera a tutti Mediolanum è quinta edizione abbiamo visto dalle immagini l'evento che abbiamo creato lo scorso anno le centinaia di persone presenti ai vari campi quello che diceva Roberto prima è stata una la cosa più bella è stata l'aggregazione di questi bambini di tutte le squadre che hanno portato a far sì che questa attività, questa manifestazione sta diventando la numero uno nella nostra zona per quanto riguarda il campionato inizia il 12 ottobre ok? poi bisogna vedere con le categorie a parte il campionato si fa all'Agora Fitness non al Don Luca giusto? tutto il campionato no, solo Agora Fitness sì ok? lì abbiamo tre campi e riusciamo a giocare allora praticamente facciamo la categoria esordienti 2002-2003 ok? i ministri praticamente giocano a 7 poi solo 2004 a 7 poi solo 2005 a 6 solo 2006 a 5 solo 2007 a 5 e se riusciamo a fare solo 2008 a 5 e poi stiamo provando perché ci hanno chiamato due o tre società che hanno 2009-2010 l'obiettivo è far giocare ai bambini e farli divertire questo è l'obiettivo del Mediolanum però la cosa che ci premi di più è che quando si salta la partita che non si può venire oppure un medico o per l'altro hanno 15 giorni di tempo per recuperare la partita in casa di chi la poteva fare? se ipotesi bravissimo però senza arbitro e senza nessuno autogestione vostra noi al campionato venite, arbitro, gestiamo noi tutto quanto ma la società che non può venire si deve mettere d'accordo con l'altra società ma va a giocare in casa loro e vi diamo 15 giorni di tempo perché almeno così siamo a passo con tutto quanto quest'anno poi avete tutto quanto mi dà la conferma Roberto su WWBluSport tutte le notizie oltre al campionato Mediolanum basta che andate su gruppo su Facebook su Facebook lì troverete tutte foto e tutto il resto